Più che altro è molto un discorso di posizionamento e anche uno zinzino, allora la bravura compensa la fortuna Gallagher, quindi io devo essere molto fortunato. Però è un po' un discorso di posizionamento e un po' di fortuna per quanto riguarda il loot e anche per vedere i nemici. Cioè Gallagher, c'è veramente tanta gente bravissima a giocare a questo gioco, ma sul serio brava brava brava, cioè che fanno delle cose veramente assurde, io non sono proprio in grado, cioè io gioco per sparare qualche colpo a qualcuno ogni tanto. Beh, quello è il... dipende con che idea ci vuoi giocare Gallagher. Cioè se ci vuoi giocare per farti due tre risate è un bel gioco, e se invece vuoi diventare bravo 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 al gioco mi sa che serve veramente tanto tanto tempo. Cioè tu calcola che mi è successo anche delle partite giocate decentemente, in cui sono morto proprio per cose casuali, tipo rocce con la molla, o granate che rimbalzano in maniera assurda. Però non perché sono bug del gioco, eh, perché magari io fe... c'è un po' di sfortuna più che altro. Comunque adesso ce ne andiamo a Pochinki che è un luogo mortale. Giusto per sparare subito da qualcuno è farci sparare subito da qualcuno, così se va bene la giochiamo, se no ne rifacciamo un'altra al volo. E vediamo un po' che... che riusciamo a combinare a Pochinki! Vediamo un po'. Guarda, la cosa che... perché cosa lo prendi, Gioele? Per PC, per console? La cosa che mi piace di PUBG è che fondamentalmente lo puoi giocare... come vuoi te. Cioè lo puoi giocare completamente in modalità d'assalto... cioè cecchinando la gente a distanza. Diciamo che... Si, si apre a un pochino di strategie. Eeeh, guardate quanti siamo a Pochinki qua. Mamma mia ragazzi, come moriremo male. Come moriremo male. Come moriremo male. Ma son gusti alla fine. Gallagher. Dipende molto dai gusti che hai. Ok. Prego, ti prego, ti prego. Ma dai! C'è una pistola con 15 munizioni. Dentro Pochinki. Cioè... Sul serio. L'unica cosa che ho trovato è una pistola con 15 munizioni dentro Pochinki. Niente Pochinki ragazzi... Tante delusioni ultimamente. Veramente. Tante delusioni. Ok. Asada! Corri mal! Granata Però c'è anche un antidolorifico qua Ok Metto di livello 2 Un po' di munizioni Un'altra bevanda energetica Sentite la gente come sfonda finestre C'è Dammi un'arma Cavolacci No non ci credo ragazzi Oh finalmente Ovviamente Niente munizioni Cioè 30 Ah Vabbè Ah andremo così No no gliela dare Gliela potresti proporre Com'idea Cesare Secondo me un pensierino ce lo fanno Bravo ragazzi Bravo ragazzi eh Beh ma PUBG ragazzi è ancora molto giocato eh Beh le partite di 100 persone le trovi proprio a qualsiasi ora Credo ci sia qualcuno al piano superiore Credo ci sia qualcuno al piano superiore C'era qualcuno al piano superiore Ehm La felpa ce la prendiamo ma si dai Ha un mini 14 Ok Ok Questo che cos'è Questo che cos'è Ok questa Ok Mettiamo quella Puntatore laser Ah no il puntatore laser Ah no il puntatore laser Per adesso mettiamolo sul Allora le 45 Non mi servo in più 7.62 No Non mi servo in più Qui non aveva trovato niente Un altro mini Si pare che quelle erano tutte le munizioni che aveva trovato Comunque è stato bravo A chiudere la porta Solo le porte di sotto Lì mi sembra ci sia una porta aperta Quella Quella a fianco Mh Cavolo Non so dove andare ragazzi Perché effettivamente la safe sta dall'altra parte Io direi Via da Pocinki E proviamo a trovarci Delle ottiche O qualche altra cosa Verso La safe C'è uno con l'auto Beh bello questo Mi piace come post Mi ero anche preoccupato Di chiudere le porte Chissà se quelle case Le hanno lootate Comunque ragazzi Posso dire una cosa Questo gioco da solo è carino Lo trovo un bel passatempo Un gruppo è veramente spassoso Cioè io per esempio Ieri sera mi sono ammazzato Delle risate Quando abbiamo giocato Tutti quanti insieme Un gruppo è veramente Veramente spassoso Sì già hanno lootato Tutto Mmm Sì c'è una moto Non so però se è uno spawn Del gioco Però mi sembra strano Che un giocatore La lasci In mezzo a nulla Sarà uno spawn Del gioco Che sono certo Ah Dai Ok Oh Sul serio Cioè Nulla di nulla Ok Eeeh Sbagliato Colpa mia Ok Peccato Ritorniamo sempre Al solito discorso Di non avere Le ottiche Però vabbè Ce ne faremo Una ragione Allora Proviamo Quelle casette Là davanti È tutto Tranquillo Se ci spara Qualcuno A distanza L'unica cosa Che possiamo fare È correre Dove Fortret È sopravvalutato Eeeh È È Sicuramente Un gioco Fatto bene De Non penso Sia sopravvalutato Penso sia Semplicemente Una questione Di gusti Da me Per esempio La meccanica Dell'edificare Roba Non piace In un Un gioco Del genere Quindi è quello Molto che Mi spinge A non provarlo Neanche Cioè Non la trovo Una cosa Che poi Forse è un po' Troppo fumettoso Per i miei gusti Cioè Mi piacciono Le cose fumettose Ma Dipende molto Dal contesto Ciao Paroz Buongiorno Ben arrivato Come la va Paroz Tutto bene Ok Qua di Di certo Non c'è passato Nessuno Buon tonno Buono Il tonno Veramente Buono Uh Padella Ok Che ti sei comprato Di bello Paroz Antidolorifico Cioè Un'ottica Niente Ma proprio Ma proprio Allora Ok Ok Il là Eh vabbè Ci sta Ogni tanto Paroz Che uno Può andare Avanti Vedo Un paio I vestiti Si usurano No Cavolo Cioè Quello Lo potevo Prendere Tranquillamente Ragazzi Vabbè Ho sbagliato Io a cliccare Col mouse Che succede Dannazione Mannaggia A me Nulla Eh vabbè Tutte Difficilissimo Arrivare Primo Paroz Cioè Almeno Per me Cioè Se Per Perso Intende Che Non sono Arrivato Primo Su Cento Persone Tutte Questa Mattina Però Ho fatto Dele Dei bei Posizionamenti Tipo Mi sa Un quarto Un sesto Credo Dei bei Posizionamenti L'ho fatta Vinte No Stamattina Proprio No E io Per vincerle Devo essere Veramente Vinto Continato Ma anche io Eh Se arrivo Tra i primi Dieci Sono Contentissimo Specialmente Quando Sono Da solo Perché In gruppo No Non mi Importa Proprio Ma anche Da solo Non mi Importa Però Sono contento Se Riesco A classificarmi Tra i primi Dieci Perché Anche Decimo Su Cento Non è Male Comunque Sono state 90 persone Che sono Morte Prima di Te A cavolo Si è svegliato Cane Pessimo Tempismo Cane Ogni tanto Abbiamo Giocato Anche Ieri Apex Non lo so Gallagher Credo Di sì Credo Di sì Su Xbox C'era Tantissima Gente Ti penso Anche Su play La porta è Aperta Ok Dannazione Scusate Ragazzi Spero Di non Morire Torno Subitissimo Rieccomi Scusate Il Carlino Richiedeva Attenzione Quindi Allora Ci servono Delle ottiche O uccidiamo Qualcuno Però Non vedo Nessuno L'occasione Ce l'avevo Con quello Con la moto L'ho sprecata Mannaggia Che peccato Allora Allora Se scendo Mi vede Dannazione Eh Starà L'addietro Ce ne sono Tante Gallagher Però Non su Cioè I server Ufficiali Sono solo Di battle royale Però ci sono Tante altre Modalità Che puoi fare E Mi sembra Che c'è La modalità Zombie Quella Team Che dovrebbe Essere Tipo Deathmatch Classico E Poi non mi ricordo Finita questa Te le faccio vedere Gallagher Però mi sa Che alcune Sono ancora In beta Ok Ok Mi serve Devo uccidere qualcuno Ragazzi Ciao Big Big Jedi Buongiornissimo Ben arrivato Come la va Tutto bene Mi serve Il cadavere Di qualcuno Non ne ho la più pallida idea Paroz Non l'ho proprio mai fatta Ora Andiamo a vedere Se è un team Umani Un team Zombie Finita questa Andiamo a vedere Questo sta qua vicino Io comunque Con le ottiche Ragazzi Ho una sfortuna Assurda Perché Col fatto che Praticamente Non stanno Sui server Ufficiali Non so se Devi riuscire Sì come gli hanno Sparato a quello No ma io Lo gioco Solo quando Mi va di giocarlo Paroz Non è che Cioè se Se vedo che inizio Da innoiarmi Smetto Lo sai Di solito Non Ok Ci dobbiamo muovere Il problema È come ci muoviamo Ok Ho visto uno Con la moto Che passava Senti qua Come si sparano E io Non ho neanche Mezza ottica Ce n'è uno Davanti a me Non so se Mi ha visto Dietro quella Roccia Non mi è mai Capitato Se mi è capitato Big Non me ne sono Accorto Eccolo Una volta L'ho preso Dannazione Se solo Avesse avuto Un'ottica Ragazzi Oh cavolo Bene Ne ho uno alle spalle E ce n'ho Quello che ho sparato Prima davanti Se esco Da qui Mi spara Quello alle spalle Se vado avanti Dovrei riusci Dovrei incontrare Il tipo di prima Il problema È che quello Che mi sparava Alle spalle Non so assolutamente Da dove mi ha sparato E io ovviamente Non ho ottiche Nei tanti Era morto Per una caduta Non so che fare Ragazzi Perché si sta Per chiuderla Safe Quindi si dovrà Muovere Tra poco Mi sa che forse Sta dietro Quella roccia Non so Dov'è Il tavolo Mi ha bloccato Proprio qua Dietro Potrebbe anche Stare in quel Cespuglio Là giù In fondo Potrebbe stare Ovunque Ragazzi Allora Qua c'è il tipo Di prima Qui ce n'è uno Che ha ucciso Un altro Non so se è quello A cui ho sparato Io O un altro Eccolo là Sta al Secondo piano Di questa casetta Sta al Secondo piano Di questa casetta Qua A 10 Devo vedere Dove chiude Ok Tra 30 Secondi A meno che Non è sceso Ma non credo Dove sta ancora Là dentro Se mi muovo Secondo me Mi vede Eccolo Infatti Vedete Come si guarda In giro Come si guarda Troppo danno No Per mezzo Secondo Mezzo Secondo Ragazzi Mezzo Secondo Cioè Ci ho provato Paroz Mezzo Secondo Pensavo di aver Fatto i calcoli Giusti Purtroppo Sono rimasto Cioè La mia intenta Era quello Di salire Dietro a quello Che a cui Avevo sparato Ma mi ha bloccato Quello che mi Sparava le spalle Quando ti trovi In mezzo a due Non sai mai Se muoverti O Restare al coperto E purtroppo Quando ti bloccano Così Perdi tanto tempo Eh ma quello Quello al piano di sopra Guardava ovunque E aveva un fucile Da cecchino Quindi Cioè Se mi muovevo Se uscivo da dietro Il furgone Prima che uscisse Lui mi sparava Di sicuro Di sicuro Grazie a tutti.